Bella ragazzi, prima del video mi raccomando, non dimenticatevi di fare un salto nel primo link in descrizione Instant Gaming ragazzi, dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi davvero scontatissimi Primo link in descrizione, Instant Gaming Wey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyoder e oggi ragazzi parliamo di un sacco di novità riguardanti i prossimi giorni di Fortnite Tanta tanta roba in arrivo ragazzi, nel video di oggi parleremo del nuovo spray Anzi, del nuovo bundle galaxy disponibile prestissimo per tutti voi ragazzi Non mancheremo ovviamente di aggiornarvi sul prigioniero Quindi quello che sta succedendo sotto al castello Perché più passano i giorni e più le cose stanno cambiando E ovviamente ragazzi, un altro bug relativo al pupazzo di neve Ne abbiamo visto ieri uno, se abbiamo tempo oggi ve ne faccio vedere un altro perché è veramente meraviglioso da vedere Ma mi raccomando ragazzi, un bel like Se vi piacciono i miei video non dimenticatevi assolutamente di iscrivervi al canale E soprattutto attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento, nessuna news Sulle live e sui miei video Ma prima, lo sapete ragazzi, la domanda ve la devo fare Ve la devo fare, ci tengo tantissimo Che commentiate qui sotto Con tutto quello che vi viene in mente E la domanda di oggi è davvero molto molto semplice Come ti sembra la nuova skin? Insomma ragazzi, la skin che è uscita ieri Nello shop, cosa ne pensate? L'avete shoppata? Innanzitutto, a me personalmente non mi fa impazzire Non mi piace il piccone Ma è molto carino invece il deltaplano Tanta tanta roba Fatevi sapere qui sotto invece come vi è sembrata a voi questa skin Ma quindi, ciancio le bande E bando alle ciance Andiamo subito subito ragazzi a parlare Di quello che sta succedendo sotto al castello Questa ragazzi è un'immagine Di qualche ora fa indicativamente E come potete vedere Se state seguendo i miei video Spesso e volentieri Vi tengo aggiornati Su quello che sta per succedere Cacchio Le catene ragazzi Come vediamo nell'immagine successiva Sono molto più visibili Rispetto a 48 ore fa Prima si vedeva solamente Il supporto in alto Che teneva le catene Bloccate al soffitto del castello Oggi ragazzi Invece notiamo quanto si sia sciolto Ulteriormente il cubo di ghiaccio Che c'è al centro di questa stanza E tra l'altro ragazzi Sappiamo che tra pochissimo Cominceremo a vedere questa immagine Quindi un braccio Che uscirà dal cubo di ghiaccio Molto probabilmente Ci vorrà ancora qualche giorno Ma la cosa veramente incredibile È che da qualche ora Su internet Su reddit Sui siti dove parlano i leakers Si sta sviluppando Una teoria davvero Molto molto interessante Su quella che potrebbe essere La skin imprigionata Io ho sempre pensato Che fosse il re del fuoco E continuo a pensare Che sia il re del fuoco Perché ho trovato Come avete già visto Delle immagini Che mostravano il logo del fuoco Ma ragazzi Molti dicono che invece La skin è proprio questa Una delle skin Trovate con l'ultimo update Ancora non rilasciata Nello shop Che molti dicevano fosse La controparte malvagia Della skin arc Ma molti associano le mani Alla mano che vi ho fatto vedere prima Qua non vediamo i colori Ma molti dicono che le mani Sono esattamente le stesse Quindi staremo a vedere ragazzi Quello che ci dovremo aspettare E quale sarà Ovviamente la skin Ma andiamo avanti ragazzi E parliamo dell'altro argomento Interessantissimo di oggi Che è proprio Lo spray Del lama In versione Galaxy Ultimo pezzo Che completa Il set Per chi ha ottenuto La skin galaxy Al quale Sono stati regalati Anche Il backpack E il piccone Non mi sembrano Anche il deltaplano Forse anche il deltaplano Non me lo ricordo Manca lo spray ragazzi Come si ottiene questo spray Beh ragazzi Non è così difficile Arriveranno in commercio Allora E' una notizia un po' particolare questa Perché Stanno girando da molte ore Queste immagini Non da molte Da alcune ore Queste immagini Che sono come vedete Delle cover Fatte apposta Per il Samsung Galaxy Note 9 Sono delle cover Appunto dedicate A fortnite Le quali Hanno al loro interno Un cartoncino Che ci permetterà Di sbloccare O addirittura Di scaricare Un po' di cose Interessanti Per gli amanti Della skin Galaxy Qua abbiamo un'altra immagine Ragazzi E come vedete La cover Si adatta Perfettamente Al telefono Che cosa ci sarà In questo cartoncino Beh ragazzi Ovviamente Avete visto tutti Il nuovo spray Del lama In versione galaxy Ma ci sarà La cover Ovviamente Del telefono Uno screen Un wallpaper Quindi uno sfondo Per il telefono Di fortnite Uno sfondo Per la schermata Di blocco Del telefono Il tema Completo Per tutto il telefono Quindi che cambierà Le icone E gli effetti Del vostro Samsung Galaxy Note E 1000 V-Bucks Ragazzi È davvero una cosa Super super interessante Non si è capito bene Come ha risposto Samsung A queste immagini Perché Non hanno Ne smentito Ne confermato Quindi non si è ancora Ben capita Come è la cosa Sappiamo che ci sarà Questo spray Bisogna vedere se il bundle Che vi ho appena mostrato Sarà effettivamente Così Aspettiamo le prossime ore Che una risposta Venga data Ufficialmente Da Samsung In quanto sono immagini Appunto Trafugate Chissà Da dove Ma andiamo avanti Ragazzi E non potevo Non potevo Non parlarvi Nuovamente Del secondo Incredibile Pazzesco Bug Del nostro Pupazione di neve Ragazzi Che anche oggi Si fa Veramente Troppo Troppo Ridere Voglio farvi vedere Ragazzi Un video Vediamo Eccolo qua Dov'è Te lo faccio vedere Subito ragazzi Guardate Che cavolo Sono stati in grado Di fare Questi come gli è venuto In mente Non so come gli è venuto In mente Ragazzi Allora Per farvi vedere Il video Vi prendo da qua Guardate che storia Raga Guarda Loro sono sopra Questo coso Questo tira Il pupazzo Di neve Adesso guarda Se è un'altezza Improponente Tira il pupazzo Di neve Ci va sopra Modifica La piattaforma Pronto Non si fa Assolutamente Niente Quindi Veramente ragazzi Se avete per caso L'altezza E vi stanno tirando giù La struttura Beh ragazzi Abbiate sempre con voi Un bel pupazzo di neve Perché basta che lo piantate giù Modificate E Non Subirete Danno Veramente Veramente Incredibile Andiamo avanti ragazzi Con quello invece Che è stato recuperato Dai dataminer Che riguarda invece L'update Di settimana prossima L'update 7.3 Non si sa ancora Moltissimo Su quanto Verrà aggiornato Abbiamo due Conferme Ufficiali Arrivano direttamente Da mister Popo Che è uno dei Coordinatori Del reparto Tecnico Di epic games Verrà Fixato Il bug Delle foglie Quindi quando Stiamo troppo Tempo Dentro un campo Di grano Uscendo Abbiamo le foglie E verrà Anche Modificato Sistemato Il bug Quello del ghiaccio Come lo chiamiamo noi In Italia Cioè quando stai troppo Sul ghiaccio A un certo punto Comincia a vibrarti Tutta la camera Perché ha visto le mie live Mi è successo Anche a me Un paio di volte Quindi ragazzi Modificheranno Questi due bug Voglio chiudere Con un'altra Informazione Interessantissima Che riguarda La nuova Modalità Trio Non sappiamo Ancora molto Ragazzi Ma sappiamo Che è presente Nei file di gioco Se andiamo a vedere Questa immagine Interessantissima Che riguarda Il secret skirmish Quindi L'evento Che mi sembra Ci sia Il 14 15 febbraio Dura due giorni Come vedete Sono state annunciate Le prime fasi Di entrambi i giorni Dove si giocherà In solo E in duo Ma sono criptate Volutamente Le seconde Fasi Quindi Sembrerebbe Ragazzi Che possa Essere Per la prima volta Proposto Al grande pubblico La modalità Trio Già presente Come sappiamo In un leaks Di un po' di settimane Fa Che appunto Conferma Questa modalità Beh ragazzi Io per oggi Ve ne ho veramente Cantate Di tutti i colori Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Un bel pollicione In su Iscrivetevi In tantissimi Al canale Noi Ci vediamo presto Ciao 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 Ciao